La frase Lega razzista pronunciata dalla segretaria del PD, Micaela Fanelli, porta ad uno scontro a distanza con Aida Romagnuolo. E scontro forte anche se a distanza tra la segretaria regionale del PD, Micaela Fanelli è la candidata della Lega, noi con Salvini, Aida Romagnuolo. Era stata la segretaria del PD, Micaela Fanelli, a dire che in Molise non si può votare la Lega. Odio tutti i razzismi, aveva aggiunto La Fanelli, c'è un tema sull'immigrazione che dobbiamo affrontare. Considero il modello del lanci degli Sprar diffusi sul territorio un buon modello di accoglienze e credo che l'Europa non ci debba lasciare da soli. Ci vogliono rigore e regole, ma ci vuole anche una ferma condanna di tutti i tipi di razzismo e di tutti i tipi di violenza. Chi viene colpito, chiudeva La Fanelli, è una persona. Non si è fatta attendere la replica di Aida Romagnuolo. Mi permetto di fare senza polemica alla segretaria Fanelli due domande. Perché i molisani dovrebbero votare il PD, il suo partito, dopo tutti i danni che i suoi accoliti hanno procurato ai molisani, rendendo la nostra regione tra le più povere d'Italia? La seconda domanda, aggiunge Romagnuolo, è questa. Perché lei, sindaco di Riccia e segretario regionale del PD, invita tutti i sindaci molisani all'accoglienza, mentre nel suo comune non c'è l'ombra di un immigrato, non c'è una cooperativa che si occupi di immigrati. E soprattutto, perché lei non ha attuato come comune lo Sprar, che doveva occuparsi di accoglienza e di immigrazione? Insomma, La Fanelli vuole che tutti i comuni del Molise si facciano carico di ospitare, a spese dei cittadini, quanti più immigrati possibili ed immaginari, mentre a Riccia neanche a parlarne. E quindi, chiude Romagnuolo, i razzisti sarebbero i leghisti.